Se si desidera creare attività automatiche in ePassanManager, iniziare facendo clic sul pulsante Strumenti. A questo punto, fare clic su Task Automatiche e creare un'attività. Inserite un nome per il compito. Scegliete quando deve essere eseguito e qual è l'azione chiave. Ad esempio, si può creare un'attività in modo che ePassanManager cancelli automaticamente il registro delle azioni più vecchie di 6 mesi. Ricordatevi di fare clic su Salva.